salve a tutti signori io sono lorenzo e questo è il mio canale espertone benvenuti per chi mi segue sa che ho iniziato ad installare alcuni prodotti della sonoff sono dei prodotti che ci aiutano a rendere la casa sempre più smart per chi invece non mi segue e quindi è la prima volta che arriva nel canale benvenuti oggi andiamo a vedere il termometro della sonoff perché dovrei acquistare questo prodottino qui della sonoff come termometro perché posso usarlo per varie funzioni innanzitutto posso sapere qual è la temperatura esatta all'interno della casa come vedete e soprattutto l'umidità quindi da qui posso andare a creare delle scene oppure dirgli guarda se la temperatura è superiore ai 20 gradi vai a spegnere la pompa dei termi quindi usato come termostato posso usarlo se l'umidità è troppo alta vai ad accendermi il deumidificatore oppure qualsiasi cosa che vi immaginate a casa uno può essere anche che all'acquario possiamo metterlo vicino a un rettilario non so qualsiasi cosa che mi interessa su un negozio su un dentro un frigorifero quello che volete io posso andare a dirgli bene quando supera quella temperatura o quando va sotto quella temperatura la stessa cosa per l'umidità vai a farmi accendere qualcosa o spegnere qualcosa bene tutto questo molto velocemente tutto questo grazie all'applicazione ewe link che adesso si è evoluta anche con ewe link cast che è un'applicazione dedicata solo per i tablet o gli ipad comunque un ipad è sempre un tablet benissimo quindi adesso voglio farvi vedere dall'inizio come funziona per me è il secondo prodotto che vado a installare di sonoff quindi vediamo se ci sono delle delle accortezze da rispettare e come anch'io che sono uno tra i primi prodotti che vado a installare voglio farvi vedere quali sono le possibilità che degli errori che possiamo fare benissimo quindi adesso cosa facciamo allora io devo sincronizzare questo prodotto che è un sonoff zigbee e questa la scatola è arancione non è verde come per dire questo qua che è il sonoff mini r4 allora perché ci sono queste due colorazioni non così a caso perché sono due prodotti diversi cioè funzionano in modo diverso questo posso collegarlo direttamente al mio wifi questo qua il zigbee hanno bisogno di un bridge cioè del zigbee bridge come vedete qui e anche questa la scatola non c'è a cosa serve questo qua questo è zigbee bridge pro praticamente da 32 dispositivi che riusciva ad unire adesso ne può comandare fino a 128 ma cosa serve questo perché i nostri prodotti non si collegano direttamente alla rete wifi nostra hanno bisogno di questo ponte cioè diciamo che questo è il mio prodotto questo è appunto il zigbee il bridge e questo è il mio wifi per andare da qui a qui ha bisogno di questo ponte qua e quindi questo quanto ne dobbiamo prendere per tutta la casa me ne basta uno perché i dispositivi zigbee a parte questi qua che sono a batteria questo è la batteria non è alimentato ma quelli alimentatori creano anche loro diciamo tra virgolette un piccolo bridge cioè un piccolo generatore di wifi interno suo quindi hanno tutti dei passaggi che si concatenano uno con l'altro e possiamo andare a fare la copertura che vogliamo della casa bene il zigbee bridge pro è questo prodottino qua molto piccolo potete metterlo dove volete appoggiarlo così metterlo in piedi come volete ha due led che appunto vanno a vedere lo stato e in questo caso qui io vado a collegarlo a una presa micro usb che è questa allora senza di questo senza il bridge questi prodotti qua con la scatola arancione non funzionano in nessun modo quindi vado a collegare il micro usb qua vedete adesso lui lampeggia io vado a prendere il mio smartphone con la mia applicazione vado a sbloccare un attimo il prodotto e sono già sull'app e we link dall'app e we link premio il tasto più che vedete qui sopra questo aggiungi dispositivo lui adesso mi fa una ricerca dei dispositivi devo attivare il wifi dovete attivare il wifi nel telefono altrimenti non funziona piccola gaffa però questo è il bello della diretta questo vi fa vedere che può succedere anche queste cose qua quindi perché non va perché non ho collegato il wifi prossimo lui mi fa scansione già trovato sono off zb bridge faccio ok aggiungi e lui si aggiunge ci vuole un attimino che si configura e poi lui si aggiunge vedete che sta rampeggiando di blu e quindi vuol dire che si sta configurando sono belli perché sono piccoli ecco vedete che è venuto fuori la spunta verde quindi è stato aggiunto faccio prossimo qui posso andare a modificare il nome mettiamo bridge me l'ha già aggiunto ad alexa quindi già a posto completato e qui abbiamo il nostro dispositivo faccio prossimo completato benissimo adesso io devo andare a fare la stessa operazione per questo qui che è il nostro termometro come vedete il termometro ha un supporto che è questo qui 3m che è un biadesivo che possiamo attaccarlo alla parete poi questo lo si aggancia così e lui resta attaccato oppure potete prenderlo qua e metterlo con lo stand così in piedi per appunto appoggiarlo dove volete sopra un comodino sopra la tavola dove mi interessa di più benissimo adesso io lo appoggio qua e in questo caso io adesso l'avevo già configurato prima comunque per aggiungere molto semplice si va sull'applicazione bridge si fa aggiungi dispositivo ok premo il tastino di configurazione questa icona qui lampeggia e qua lo troverò fate prossimo e lui si è connesso in questo caso qua io l'avevo già connesso e quindi è a posto quindi nella nostra applicazione cosa vedremo vedremo bridge pro il nostro appunto termometro e questo qua è il misuratore di quello che misura la corrente che avevo già fatto un video prima se volete vi faccio rivedere faccio continuo a leggere e qui mi viene fuori il grafico dei consumi della corrente bene stessa cosa lo possiamo fare con il nostro termometro che è questo qui qua vediamo la temperatura l'umidità e poi qua pian pianino ci verrà fuori il nostro grafico con tutto quanto come è andata nei giorni nei mesi anni benissimo quindi è già configurato per configurare questi prodotti della sonoff secondo me è di una semplicità unica e tutto quanto dopo lo si può comandare dall'applicazione ewe link poi c'è l'ewe link cast che cos'è l'ewe link cast è l'evoluzione di questa applicazione qua però sul tablet e quindi ve la faccio vedere benissimo vado a prendere il mio tablet qui come vedete c'è l'applicazione ewe link cast premo qui e si apre l'applicazione ewe link cast come vedete c'è consumo casa adesso ho fatto così delle prove e qui abbiamo la nostra applicazione qua abbiamo appunto il grafico del consumo non so se vedete eccoci qua e posso andare a vedere giorno per giorno ora per ora dipende come volete vedete qua c'è il giorno oppure ci sono le ore e vedo come come sta andando nel grafico il grafico che vedete qua non si può spostare da qua perché bisogna andare nell'applicazione del nostro computer in questo caso qua e far vedere come si vede che adesso vi faccio vedere un attimino quindi da qui come vedete vado sul la nostra applicazione a questa è l'applicazione ewe link web siamo nel nostro computer qua guardo appunto il mio termometro zigbee bridge pro e appunto il misuratore di corrente qui poi posso andare a mettere se voglio appunto delle scene manuali se vado ad aggiungere delle scene possono dire da quella temperatura fammi questa cosa qua da quell'altra temperatura fammi un'altra cosa eccetera poi possiamo qui c'è la configurazione la configurazione appunto per il nostro display qui abbiamo dove salvano i dati eccetera qua mi fa vedere che abbiamo un aggiornamento da fare vedete qua zigbee ha il puntino rosso e qui c'è la vecchia versione la corrente cioè la versione attuale e l'altra versione e qui la stessa cosa anche per quanto riguarda invece il termometro eccetera qui nelle impostazioni posso andare a mettere la lingua che adesso l'hanno messa in modalità beta anche in italiano io vado a metterla in italiano vediamo come va aggiornamento infatti adesso è passato qui bene allora torniamo nella nostre impostazioni che questa casellina qui che vedete configurazione semplice e qui ci spiega tutto quanto vado su consumo casa faccio modifica ok e qui abbiamo il grafico che abbiamo appena visto nel nostro tablet ma seleziono anche il grafico appunto della temperatura che è questa qui che poi c'è temperatura e umidità e posso andare a cambiarlo io da qua posso andare a spostarlo vedete l'icone dove voglio quindi posso metterlo qua il grafico posso mettermelo qua ok questo qualche calendario se voglio posso spostarlo qua e farmi il grafico come voglio io a questo punto qua c'è selezione una scena eppure ci sono i grafici i grafici io posso andare a attivare consumo energetico oppure attivarlo o disattivarlo temperatura che appunto il nostro prodotto abbiamo appena installato da qui posso andare anche a modificare altre cose intanto facciamo salva così salviamo che mi piace questa grafica qua se adesso vado nel mio tablet quindi faccio consumo di casa vedete che ho già cambiato la grafica proprio come l'ho impostata dalla mia configurazione di ewee link cast con la temperatura e tutto in diretta da qua io posso andare appunto a cliccare sull'umidità e sulla temperatura quindi è tutto collegato dall'applicazione ewee link ewee link web ewee link cast quindi tutto collegato assieme è tutto strasemplice tutto in via di aggiornamento perché tutto sta arrivando sono tutte cose nuove che stanno arrivando e che man mano migliorano e hanno sempre più opzioni e questo è il vantaggio del dispositivo poi che dire allora il prodotto come va secondo me io l'ho tenuto una settimana vicino a altri termometri e devo solo che dire che è molto molto preciso secondo me perché allora io sono un po' ho un po' di stazioni meteo in giro per casa e qua ve ne mostro solo due che poi ne ho altre quattro stazioni meteo adesso la temperatura non è giusta perché io l'ho tenuto in mano questa qua dobbiamo aspettare che si ristabilizzi e ci vogliono 10 minuti quindi questo è 20,1 questo è 20,6 questo 19,6 e comunque io ce l'ho in camera da letto e ho visto che la differenza fra i tre ok a volte questo mi segna 20,1 questo 19,9 questo 20 c'è sempre differenza di quel 0,3 0,2 che dipenderà dal sensore dipenderà dalla posizione eccetera però siamo là quindi che dire i prodotti secondo me ci sta è molto preciso veramente e come umidità poi ci vorrebbero proprio un nigrometro perfetto ma dire qual è giusto e qual è sbagliato come si fa a sapere se non sappiamo veramente qual è la temperatura quindi ognuno dice la sua e vedete quanto cioè l'ho appena preso in mano già è andato a 75% di umidità e anche la temperatura sta salendo bene io posso dire solo che bene bene quindi concludo questo mio video di sonoff e con questo dispositivo qui con la scatola arancione che con il tono di perdere è il zigbee e poi più avanti andremo installare magari il mini r4 che voglio vedere come funziona e come si può collegare alle varie funzioni per il momento penso di essere stato chiaro se avete delle domande anche io purtroppo sono appena arrivato in questo mondo fantastico e fatemele pure poi cercherò di informarmi e di rispondervi se il video vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al canale manca poco i 10.000 iscritti manca pochissimo e così mi aiutate ad arrivare ai 10.000 che è un bel traguardo e attivate il tasto delle notifiche grazie a tutti e arrivederci